Musica Diamo spazio ai piloti che si stanno cimentando nella terza edizione del monomarca RS660 Oggi siamo in un posto speciale perché intanto siamo a Misano, nelle piste più belle nel mondo E poi siamo all'Aprilio All-Star dove ci sono piloti fortissimi quindi per noi è un sogno essere qui e condividere il padro che siamo a loro Questo di Aprilio un mondo sempre attento al monomarca per dare modo ai giovanissimi di entrare in pista Qui ad Aprilio All-Star ci sono tanti ragazzi giovani che vanno veramente forte, lui è uno, si chiama Enei Where are you from? Alla prossima Quanti anni hai? 17, compiuti oggi Compiuti oggi, esiste un regalo di compleanno migliore di stare in pista con i piloti della MotoGP? No, penso sia il regalo migliore che ne abbiano mai fatto Quale miglior palestra per i piloti giovani che hanno voglia di scoprire le piste del mondiale? L'evento è bello, bellissimo perché si vede tutti i piloti di MotoGP, si può anche girare Adesso mi sembra di essere un pilota ufficiale Musica 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 Musica